Sistemi di gestione dell'energia, un trampolino per il futuro delle PMI, il contesto legislativo, le opportunità di finanziamento e il tema di un incontro previsto nel pomeriggio di oggi a Caltanissetta al Consorzio Università in Corso Vittorio Emanuele su iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Caltanissetta. Parteciperà l'assessore comunale all'ambiente Giuseppe Tuminelli. In programma anche gli interventi di Vittorio Cecconi su sostenibilità nell'uso dell'energia, Fabio Cardona su vantaggi e agevolazioni per la gestione efficiente dell'energia alla luce dell'attuale contesto legislativo nazionale e regionale, Marco Pellitteri sulla diagnosi energetica dalle 18.45, dibattito e conclusioni.